Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi proviamo insieme la Duesenberg Bonneville, una chitarra solid body in mogano, con manico anche in mogano, una tastiera in palissandro a 22 tasti, lavorata con il sistema PLEC. Il sistema PLEC è una macchina che utilizzano negli stabilimenti di Duesenberg ad un over che consente di livellare alla perfezione tutti i tasti dello strumento e quindi avere sempre un eccezionale comfort e un eccezionale feeling sotto le dita. La chitarra monta due Unbuck in Grand Vintage di Duesenberg, meccanica autobloccanti, sempre di Duesenberg. Ha una sezione del manico a D e delle misure abbastanza tradizionali, quindi 648 mm di Appazon e 42,5 mm al capotasto. Che dire, è una chitarra aggressiva al punto giusto, con il timbro ben focus, ben focalizzato. Anche quando si usano dei suoni leggermente crunch, overdrive, lo strumento è sempre responsivo. Tanto sustain. E' divertentissima, bellissima da suonare, strumento bilanciato e equilibrato. Vi invitiamo a venirla a provare, dunque qui da Borsali Strumenti Musicali, il rotondo Antonio Torri 9 bar ABC. Con questo è tutto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, alla prossima!